Ciao a tutti ragazzi e ragazze oppure amici e amiche Allora, mi sono preso un paio d'ore di pausa giusto per cibarmi, per non morire Ma adesso posso riprendere a giocare E... mi sono fatto un giro di questo posto perché volevo finalmente trovare il mio amico tartarugoso E l'ho trovato Ehm... c'è da parlare con lui Perché... è misteriosa questa cosa, devo capire bene come funziona E poi... ho trovato altre robe qui dentro che mi ero perso Avrei dovuto davvero controllare prima questo posto Intanto lui è qui Ci ho già parlato ovviamente perché pensavo fosse uno stregone Infatti, acquistando gli oggetti ti vende stregonerie, niente di più E quindi non mi interessa Però... c'è anche questa faccenda, mi dice, attingi al vero potere Facendo questa cosa... Mi chiede se voglio salire di livello E io posso fare un livello Ma... non capisco bene come Sembra tipo utilizzando tutte quante le anime che ho Che non è male come idea, eh Però... Non capisco bene come funziona Cioè... Ho capito, ho avuto tutte le anime Ma poi che cosa succede? No, ce le ho ancora E quindi... Ah! Mi ha messo un punto in più Così, a gratis Va bene Ho un punto in destra essa in più Quindi ogni tanto mi conviene andare a parlare con quel tizio Perché potrei livellare Adesso non me lo fa fare più Quindi è da vedere che cosa ha scatenato questa cosa E poi salendo qui sopra C'era un tizio Appoggiato qui al muro che non ho mai visto E non so se era già qui prima o no Occhi rossi Grazie Va bene Quindi è il nostro tipo amico invasore Benissimo E poi non mi ero assolutamente accorto Ecco, del nome Io stavo cercando il tizio per utilizzare il potere di trasmutare le anime E il nome era questo Ludlet, l'esiliato E guardate un po' chi c'è seduto su questa sedia Io non l'avevo minimamente notato Credo che sia stato qui per tutto il tempo Io ho letto il nome Sono passati 5 episodi Non mi sono mai fermato a vedere Chi c'era Se c'era qualcuno sulla sedia Quindi, salve Ecco qui, grazie Ah sì Devi essere più vecchio di quello che sembri Ah, è bruciato il corpo E allora forse non è piccolino È solamente bruciato Gli mancano le gambe, sembrerebbe anche Poi prendo il binocolo Tranquillo, se ti piace essere guardato Non sono affari miei Ok, dai fornaceo per il trasferimento Certo È la cosa che abbiamo ottenuto recentemente Speriamo Ora portami un'anima malvagia Perfetto Quindi Ecco il trasferimento Va bene Avvia trasferimento Con le armi che ho Posso creare nuove armi Per esempio Questo spadone Ammazza vacui Ma aspetta no Forse non serve Scambiare Qualc'occhio sinistro Del sacerdote Che cos'è? Un anello maledetto Attacchi consecutivi Ripristinano punti vita Con l'anima del primo boss Mi piace questa idea Quindi Se colpisco il nemico Più di una volta Mi ricarica gli HP È tipo l'evoluzione Del anello dell'occhio malvagio Potrebbe essere utile Dipende da quanti HP Questo spadone È bloccato Perché mi chiedere le anime Ma in più Che cosa dovrei dargli? Vediamo Qui mi diceva Aspetta un po' Oggetti richiesti Anima di gran bosco Quindi con il boss albero Questa è l'anima di un demone Che non ho Questa con l'anima del primo boss Ed è un martello pesante 30 unità Dovrebbe essere più forte Rispetto a quello che sto utilizzando In questo momento Dopodiché abbiamo una lancia Con l'anima del gran bosco La lancia mi interessa poco Però più dello spadone Quindi Se ci sono solo quelle opzioni E poi l'anima del demone Perché mi fa vedere Le cose con l'anima del demone Se io non l'ho mai trovata? Quindi potrò fare O Un'ascia pesante Oppure Ah è un'arma da pugno Ecco cos'è Questo è il pugno demoniaco Non era l'occhio del sacerdote Ripristina punti vita Con gli attacchi successivi Non lo so se il martello mi conviene Oppure l'anello Ah Questa è una scelta difficile Di solito sono per le armi Però è strano vedere un boss Che ti può fare Avere un anello Quindi sono curioso Anche per questo Per ora E solo per ora Lascerò perdere Ma sicuramente tornerò qui Per fare questa operazione Che poi è strano che Due di queste Non me le fa pagare Mentre quelle fatte con L'anima dell'albero Invece sì Quindi forse sono avanzate Rispetto a quelle che costano niente Ma è da vedere O forse c'è tipo Questo terzo boss Che mi dà l'anima di demone E io non l'ho ancora trovato Comunque sia Penso di avere visto le cose Ah no aspetta Ce n'era ancora un'altra Io ero stato Qui sopra Verso sinistra E sono ricascato di sotto Ogni tanto compare la nebbia All'interno di questo posto E non capisco perché Sinceramente Non mi fa uscire Però poi dicevo Sono stato da quest'altra parte Che è simmetrica E infatti da qui Si cade Alla stessa maniera Però per l'appunto In teoria Si può anche uscire Grazie a scomparsa la nebbia E qui Mi sono fatto giusto un giro E ho visto che questo è il luogo In cui bisogna utilizzare La chiave Che è in vendita Per 20.000 anime Quindi Adesso Ho la voglia Di accumulare un po' Per arrivare a quel punto E poi Ho visto che Lì dietro c'è un oggettino E immagino che Forse da qui Si arriva in qualche maniera Sul tetto E poi dal tetto Si può calciare la scala Arrivare lì sopra Prendere l'oggettino Ed essere molto felici E anche aprire la porta Che stava dall'altro lato Detto questo Penso Che abbiamo visto tutto All'interno di questo posto Possiamo trovare un modo Di utilizzare la chiave Che abbiamo comprato Alla fine dell'episodio precedente Dalla mercante Qui dentro Quindi Non sapendo Quale porta Dovrò aprire Mi conviene Ripartire Dall'inizio Dell'area Questa qui Ah e in più Ho utilizzato La scheggia D'osso di non morto Quindi adesso La fiaschetta estus E a più uno Questo è troppo lontano Questo dovrebbe essere L'inizio dell'area Non mi ricordo Dove sono le porte chiuse Quindi davvero Devo partire da qui Per forza E qui Una persona intelligente Aprirebbe la descrizione Della chiave Per vedere se ti dice qualcosa Questa è la chiave Della cella Dovrebbe essere Questa qui Una porta sbarrata Che conduce Dalle fogne Sotto l'insediamento A una cripta Umida Ok Quindi Ho capito Dov'è Ho capito E' quella dove c'erano i topi Perfetto Allora è vicino A quell'altro Falò Andiamo a piedi Perché no Testiamo l'arma Facciamo anime È comunque una cosa utile E continuiamo a giocare Perché così si fa anche pratica Sbagliato E invece Pantaroni da lavoro Io ho venduto tutti quelli che avevo Perché non ne volevo più E adesso invece Ci stiamo rifornendo di nuovo Credo che esistano solamente Quei due pezzi di equipaggiamento I pantaloni E il vestito Perché tutti gli altri Non ci sono mai stati dati O stiamo avendo molta sfortuna Oppure effettivamente così Beh adesso non devo più Uccidere il ciccione Ho finalmente ottenuto la sua arma Sono contento Addio Vediamo da qui Potevamo raggiungere Il falò In qualche maniera Non mi ricordo perfettamente Qual era la strada Ma sicuramente si arriva Abito da lavoro Abbiamo detto che è uno dei due pezzi Che possiamo ricevere E qui c'era tutta quanta la gente Nell'angolo Devo anche ritrovare il tizio Che porta la flamberga Ho davvero voglia Di farmela droppare E qui non c'era tutta l'area Con esattamente I tizi sui tetti Riesco a colpirlo? No La risposta era no Sono fatto colpire contemporaneamente Da quelli sopra E da questo qua No problem Sono cose che capitano Quando vuoi affrontare Nemici veloci Con un'arma lenta Tra l'altro in questo caso Anche gente che vola Che vola Che mi attacca da lontano E non ci posso fare niente Al momento Allora tu Torna giù E seguimi per favore Così con calma Che poi mi sa che alla fine Non ci siamo più stati qua Adesso che ci penso Vieni qui Non fare così Ce devi da morì Eh Se non sbaglio Ce n'erano anche degli altri Proseguendo Ma invece qui È una cosa nuova Perché Credo che non ci siamo stati E non ce n'era motivo O forse c'era un oggetto Mi sono dimenticato Di averlo preso Però so di per certo Che qui compaiono Altri nemici Da qualche parte Mi ricordo Una bella imboscata Eccola qua Muorici E lì ce n'è un altro Per fortuna Almeno gli uccidiamo Con un colpo Poi c'era uno Su questo tetto Per favore Vorrei salire Se non ti dispiace E uno Sull'altro Con la scala Più quello Che era lì sotto Che adesso Uccideremo Ma non dovrebbe darci problemi Tiè Che bello Che è questo attacco in rotolata Lui Lo uccideremo Solamente perché Mi sta antipatico E mi sembra un motivo Abbastanza valido Tiè Ah quella è l'aria Che conosciamo Lì sotto c'è un falò E potremmo utilizzarlo Tranquillamente Per Utilizzare questa chiave Che abbiamo trovato Però C'è un però Quest'altro posto Cos'è Ci siamo stati E semplicemente La mia mappa mentale Non si ricollega Oppure È una cosa nuova C'è solo un modo Per scoprirlo Che è buttarsi No Qui non ci siamo stati Di per certo Perché mi ricordo Quel nemico Che ha una gabbia Sulla schiena Che ho visto Da lontano Ma non ho mai incontrato Quindi È una cosa nuova Tutti gli effetti Ok questa porta Non si apre Salve Io non vorrei venire lì Se tu mi fai il favore Di avvicinarti a me Facciamo prima Due Tre Sei mio Questi qui devi farli attaccare Cioè Poi fanno tutto da soli Non sono per nulla Un problema Ma l'importante È saperli prendere E tutto questo L'abbiamo fatto Per questo oggettino Che Dannazione Sapevo che sarebbe andata così E quindi adesso È anche un'altra cosa Che va recuperata Sul fondo Di questo villaggio Lì ci sono i due Tizi con i vasi Quindi sappiamo Più o meno Cosa c'è qui sotto Però Oltre loro Esatto Questa è la cattedrale Lì c'era il nostro amico Col martellone E quindi qui dentro C'era Sigmeier O il suo discendente Quello che è Però io da qui come me ne vado Era tutto recintato Non credo che mi devo buttare Mi sembra una caduta mortale Però qui è chiuso Mi starò perdendo Ah no aspetta Di qua Di qua Posso tranquillamente buttarmi Ecco a cosa serviva Questa strada qui A questo punto Posso tranquillamente Cercare di arrivare In quell'altro posto A piedi Adesso prima di proseguire Dove c'era la chiave Devo sapere Che cosa ho fatto cadere Con quell'oggetto Ok più o meno È qui che dovremmo essere Lasciamo che passino Loro Che i due cani Si vadano a sistemare Dove devono stare Così io poi posso Passare tranquillo Schippare tutto Come abbiamo già fatto E poi però dovrò Tornare indietro Per andare lì sotto E utilizzare Questa chiave Vai via Fuffi Penso di essere Sicuro adesso Qui Dovrei tranquillamente Essere Più o meno In grado di correre Più o meno È abbastanza Però continuo a correre Milady per favore Cosa abbiamo Un anello di pietra Del fuoco Beh sappiamo benissimo Che cosa fa Aumenta la nostra resistenza Al fuoco Ma tu Adesso per caso Sei interattivo Ah Amici Mi dovete lasciare In pace Ok È l'unica cosa Che vi chiedo Lasciatemi in pace Che sta facendo Questo impazzito Sì decisamente Vedi di morire Fa niente Se mi ha colpito Ok Vediamo Quanto male Fa questo Abbastanza 3,47 Non è per nulla male E qui ho avuto Un po' di Hyper armor Intanto Noi Dicevamo Mi sono perso Una linea di dialogo Ops Di chi stiamo parlando Sicuramente me l'avrà detto prima Ma tu ti arrendi Troppo facilmente Ragazzo Sarà la guardiana Del fuoco O quella che si è presentata Come guardiana Del fuoco E mi lascia così Non posso neanche calciarlo Maledetto Questa porta per caso Si apriva da questo lato? No Non sapevo se fosse chiusa Oppure appunto Che non si apre da questo lato Qui giù Eh io non so Secondo me cado E muoio Quindi Ignoriamo C'è anche un bello oggettino Da fare cadere Bah Quanta curiosità Per il momento Meglio se non ci faccio nulla Anche perché forse questa chiave Serve proprio per andare lì sotto Visto che stiamo per accedere Dalle fogne Avrebbe anche senso Non mi guardare Non mi guardare Maledetti muri Rovinano il divertimento a tutti Sempre E qui giochiamo di non farci fregare Come dei fessi Chi si farebbe mai uccidere Da un branco di topi Chi mai? Io non ne conosco nessuno Qui l'altra idea saggia Sarebbe tornare al falò La porta era questa? Esattamente Fatto bene a leggere la descrizione Yuhuu Ehi Una mini scala Che posso risalire? Mica come quella Della base del raccolto Che bello Allora Destra o sinistra? Andiamo di qua Perché vedo Qualcosa È la statua di Velka Ho trovato un perizoma Beh Penso che il nome Sia un po' più suggestivo Di quello che sarà davvero L'equipaggiamento Eh Direi di sì Per quanto questo è leggero E quindi rispetto ai miei standard Almeno Questo mi fa sentire meno Meno Nudo Preghiamo Richiedi assoluzione O richiedi Dissoluzione Ok io non pago niente Finché non capisco Che cosa sarebbe Sarebbe la dissoluzione Aspetta Mi fa tornare Umano Non ha senso farlo così Perché dovrei Ammesso che ho capito bene Posso usare tranquillamente Un Una brace Ne ho tante Posso anche comprarle Per meno Alabarda Rossa Standard A fondo Vediamo Al posto dell'alabarda Sembra l'alabarda Di Dark Souls 2 Quindi le hanno messe entrambe Però il moveset È lo stesso Con l'R1 Anche questo è uguale Quindi che bisogno c'è Di quest'arma Spin È esattamente la stessa l'alabarda Quella normale Quella normale ha meno durabilità Ed è Ha un attacco diverso Una carica La preferisco sinceramente E poi ovviamente Anche con l'alabarda Anche con l'alabarda Ma con questi Di uccidere un colpo Stesse animazioni Di Dark Souls 1 Anima Scimitarra È resina Umana Sembrerebbe essere Una specie di resina Marcia Che mette danno Arcano Oscuro Alle armi Questa pesa un po' di più Rispetto al Allo stock Quindi Visto che mi serve solo Per far Perry Preferisco lo stock E mi sembrava anche Un pelo più affidabile Proprio come Tempistica di controattacco Ma magari mi sbaglio Anelli Ho trovato niente di nuovo? No Questo qui non mi serve Perfetto E poi abbiamo visto La resina La resina Infondesi con oscurità L'arma nella mano destra Qui era più chiara L'icona Che è il nome Questi prenderanno vita Di nuovo? Magari dopo che li supero? Mi fanno il trappolozzo? Già Per fortuna È molto chiaro Sapere che sta arrivando Riesco a Avevo il dubbio Se avrei rimbalzato Contro il muro o meno Andiamo con calma Perché mi sono girato di spalle? Non è stata una grande idea Arrivargli proprio di fronte E poi girarmi Come ha preso danno? Mistero Che ti facciamo fuori così Chissà se questo martello Molto semplice Può essere droppato o meno Sembra quasi un martello da fabbro E da qui si prosegue Penso proprio che stiamo scendendo Nella zona Che dicevo io Penso proprio di sì Lì c'è una lucertola Che noi avevamo già visto Passandola sopra Quindi da questa parte C'è il nostro tizio Con l'elmo di Vengarl Da quest'altra parte invece Siamo sotto Dove c'erano quelli con i vasi Ok vediamo se riesco Aspetta fammi fare il controllo Attacco in salto Colpisce Ok per terra Quindi dovrei essere in grado Di ucciderla con un colpo Eh guarda quanto si sposta Secondo me questa è una trappolozza Come al solito Non lo farlo Ok Eh Pesante Penso di aver avuto una pietra pesante Frammento di titanite La chiudo troppo presto Perché Porca zozza Il cuore Ah perché sono convinto Di doverla prendere da terra E invece lo fa in automatico Quando muore Non lo fare mai più Questi spaventi Non me li puoi dare Tieni Mi dovevi droppare come minimo Un pacemaker Un defibrillatore Un qualcosa Maledetto Andiamo a vedere dall'altro lato Almeno non si è buttato anche l'altro E questo qui ha preso danno alla caduta Quindi Sono soddisfatto Quello è l'oggetto Che avevo detto di poter fare cadere E questo è il momento Di usare questo Vediamo Posso fare così? Perfetto Rimettimi Il martellozzo Cosa abbiamo raccolto? Uno scudo rosso e bianco Benedetto Più uno Possiamo farne a meno È pur sempre uno scudo E a quanto pare Noi non ne stiamo usando E qui Si prosegue Verso il basso Quello è un topo Perché dovrebbe servirmi una scala? Vabbè Per risalire Ecco perché Mi inquieta questa stanza È troppo vuota Solo un topo? Bah Non sono convintissimo Complimenti per il mio range Sopravvalutato Non è che a un certo punto Cominciano a uscire topi Da tutte le parti Autocitazionismo Ovunque Questo gioco è tutto così Cioè per me È un problema Ma perché io ho giocato A tutti gli altri Se tu hai giocato A questo qui Come primo souls È tutto molto bello Tutto molto nuovo Io oramai Li capisco troppo bene Anime di un cavalier Appena ho visto i buchi sul muro In una stanza grande Sapevo che dovevano arrivare altri topi Tadismano del santo Questo sembra quello di Rea Ci assomiglia abbastanza E vabbè Quanto richiede di fede 16 Tanto sono cose che a noi Non interessano Lo sappiamo Perché dobbiamo saperlo Di qua invece Oh Giusto per curiosità Questa è la salita normale Ora con cerchio Sia leggermente più veloce Ma non consuma neanche stamine Salve Parli del diavolo Dico Rea E all'improvviso spunta E all'improvviso Scusatemi Sfruttato un telefono Compare una tizia Che è assolutamente identica A Rea Salve Ehm Mantengo le distanze Sono un po' inquietato Da questa situazione Posso toccarti Con la mazza Mi mangia O adescono i tentacoli Tipo Yosef Moriremo Moriremo No Ho ricevuto una preghiera Irina La mia bambina Ah aspetta Non è che parlava di Di lei Il tizio che stava di sopra Ma può essere Sì sì Fai puff Irina di Karim Poi Io non capisco Sinceramente Che cosa volessero fare Con questa cosa Hanno detto che Dark Souls 3 E' un seguito Di Dark Souls 2 Temporalmente Tutte queste cose Che ritornano Come ci sono arrivate Le avevano dimenticate Tutte quante In Dark Souls 2 Velka Ehm Tutti questi reami E adesso all'improvviso Ritornano Come se nulla fosse Ti ho ribellato la tizia Non ti dispiace Vero? Già Ma fai decidere a me No? Me la vedo io adesso Ah anche lui di Karim Quindi Ah Oddio Ho appena capito Che cos'è questa cosa Sono Astrea E Garvinland Solo che Garvinland Adesso si è rotto le palle E non ne vuole sapere più Della tizia Ha pure l'armatura argentata Color Power Ranger Ma perché? Perché tutto quanto È un gioco vecchio Rifatto? Ah Ok Quindi avesse attaccato la tizia Si sarebbe arrabbiato? Ma è appena detto Che si è stancato di lei E ora dice Toccamela e t'ammazzo Non è molto coerente Come ragionamento Sai? Se ti interessava Ci pensavi prima Intanto È buono che siamo tornati qui Perché se scendo Ottimo Qui c'eravamo morti E poi non ci siamo più tornati Perché siamo andati verso l'alto Andare qui In questo momento Significa comunque morire Perché Non sarà divertente Rimandiamolo sopra Il nemico che c'era qui sotto È forte E quindi Devo attrezzarmi bene Per ammazzarlo Lì c'è una porta Ok La domanda è Posso aprirla? Scopriamolo Si Ottimo Avete appena visto L'interno del mio personaggio Del fantastico nulla Ah ok Prende molto meno danno Di quanto pensassi Più danno Di quanto pensassi Logico Aia Non mi congelare Please Te lo sto chiedendo In ginocchio Ho anche sdraiato Se vuoi Martello Quanto ti fa male Non vale la pena Di utilizzare Tutta questa stamina Chissà se si può fare Perdi a sto tizio Il fatto che sia a quattro zampe Mi fa pensare di no Però è pur sempre un cavaliere Con un'arma Umana Muori Spada Di Irithil Sarà una spada magica? Eccola qui Richiede? No Nessuna intelligenza Però ha 35 in Che cos'è quella cosa? È un effetto aggiuntivo Ah sì Del congelamento Il congelamento Verrà più in fretta Ma devo ancora capire In che cosa consiste Poi il congelamento In sé per sé Quest'arma Ha la posa Come seconda Come abilità Diamo un'occhiata Dai È bellina Questa ha un affondo Diversamente dal passo largo Che si faceva con la spada larga Per l'appunto Questo però è uguale Ma con un'arma più lunga È interessante L'effetto è davvero molto bello Immagino che non si possa abbaffare Per esempio con la resina infuocata Non avrebbe molto senso Questo si carica Non è male È simpatica come arma Quanto ha di attack rating? 154 Non è neanche bassissimo In confronto alla spada larga È anche un po' di più Ottimo Più range Un moveset migliore Ma a noi non interessa Le spade Per il momento Eh Posso farne a meno Mi diverto di più O con i martelli O con l'alabarda Per ora Verrà anche il momento Delle spade Intanto Abbiamo trovato una zona nuova Quindi quella chiave Che ho comprato Non era necessaria Per proseguire Questa è la strada Per andare avanti E tutta la facenda Di Sigmeier In fondo Poteva essere ignorata Lui mi guarda Finché mi guarda A me sta pure bene Però Non è vero Non mi sta più bene Oh oh Possiamo parlarne di nuovo Se vuoi Adesso mi sta di nuovo bene Il resto dell'episodio Lo passiamo così Io guardo lui Lui guarda me Amici Mi dispiace Mi dispiace Vi aspettano 24 minuti Di questo No dai È bello che non è ostile Comunque Che difende l'albero Parlato troppo presto Vero Sì Adesso è ostile Wow Non si è stordito Potresti morire Per favore Per favore Non è tanto da chiedere Muori Questa non me l'aspettavo Onestamente Per nulla Adesso siamo senza curativi Però Non siamo troppo lontani Dal falò Dovrei solamente correre Che ci vuole Ogni volta che dico così Muoio correndo Ok Dobbiamo imparare una nuova area Avanti È per questo che stiamo giocando Devo imparare cose nuove Ok Adesso Lui può essere Bextebato E cambia qualcosa Se lo uccido In questa forma Quindi prima che si potenzi Anche loro hanno una spada Pietra confessionale Questa è la pietra che serve Per eliminare Un potenziamento Dall'arma O meglio Un sentiero di upgrade Quindi per farla ritornare normale Se per esempio Era diventata pesante Oppure affidata O di qualità O come volete chiamarle È un oggetto utile Ma solo se siete persone indecise Se invece sapete già dall'inizio Come volete rendere le proprie armi Le vostre armi Non avete bisogno Di farle tornare indietro Intanto Anima di viandante Qui ci sono due di quelli Che hanno armi diverse Sembrerebbero delle falci O dei grossi picconi Mentre di qua Vediamo Ok quindi si incazza Parecchio Se mi avvicino troppo Però Finché lui si trasforma Io ho tutto il tempo di ucciderlo Almeno con queste armi Che non sono potenziatissime Ma fanno il loro lavoro Loro due invece Immaginavo che fosse troppo semplice Riesco a beccarlo L'altezza era giusta La direzione no Neanche stavolta Stavo per dire bingo Ma evidentemente non conosco Le regole del bingo È uno stregone Che fa robe velenose Ma lui mi ha visto E non verrà ad attaccarmi Perché si spaventa Esattamente come gli altri Al posto di queste Che oramai Sono quasi finite Proviamo i coltelli da lancio Ah dai ma sono forti È anche vero Che abbiamo una build quality Quindi scalano A B Si arrabbieranno tantissimo Questi sono nemici Esteticamente davvero Molto belli Soprattutto questi qui Con la falce Che spero di avere Il prima possibile A questo punto Molto frenetici anche Questo invece Sembra essere un pugnale Una spada corta Peccato per le mie Estus Salve Taci Beh lo stordimento Dura abbastanza Forse quello è un bastone da mago Se riesci a fartelo droppare Lì ce n'è un altro E da qui sicuramente Si può cadere Per proseguire però Prima vediamo Se c'è un modo Di farlo da sopra Altrimenti Potrei non essere in grado Di revertire la situazione Per esempio Da qui No Quello è l'unico modo Per un attimo ho pensato Sarebbe bello Fare cadere quest'albero E usarlo come ponte Però Non mi sembra fattibile È un pelo troppo grande Per le nostre capacità Quindi Sembra che è l'unico modo Interessante Il nemico è caduto lì sotto Poi più giù c'è un oggetto Quindi forse C'è modo Di fare questa cosa Sembra l'unico Questo qui Proviamo Esatto Abbiamo trovato una cosina Purtroppo non mi posso curare In questo momento E questa caduta Caduta è troppo alta Questa mi uccide Sicuro E io non ho Estus Quindi Geronimo Non ho alternative Già Però questo è il modo Di raccogliere Questo oggetto Sicuro Allora Voi mi fate il favore Di spostarvi Il cane Sta facendo cose Col pavimento Non voglio sapere Grazie Stavolta l'abbiamo schivato E anche il secondo Molto meglio Nella prima volta Che ho cercato Di fare questa operazione Ne sono uscito Assolutamente Illeso Grazie per la partecipazione Il nostro amico Si è spostato Che abbia fatto Puff Pure lui Non lo so L'unico modo Per scoprirlo Sarà tornare Al santuario Noi intanto Scendiamo Salve amici E andiamo a vedere Piuttosto Che cosa ci racconta Quest'area Sono sicuro Che quella caduta Non è letale Se hai abbastanza vita Cosa che io non avevo Non avendo Altri curativi Potevo usare Un nostro del ritorno Così da non lasciare Le mie anime Lì Però forse è meglio così Perché adesso I nemici di quest'area Sono di nuovo vivi E mi sento stronzo Come ho fatto A non vederlo Immagino la gente Che l'avrà visto Perché sarà comparso Nel video Se no sono stato Bravissimo A girare la telecamera Per non farlo vedere E non accorgermene Però non è poi Così tanto difficile Insomma Vabbè Vabbè Cose che capitano Siamo in blind Succede Dicevo Almeno i nemici Sono di nuovo Tutti quanti vivi E quindi posso Aspetta Ma questo significa anche Che se ho problemi A combattere Contro quel cavaliere Posso aprire la porta Accendere il falò E tornare lì dentro A combatterci Interessante Tutto questo per dire Che cosa Che i nemici Sono ancora vivi E ho una possibilità In più per i loro drop Se ci sono Le armi Sono abbastanza sicuro E sono anche le cose Che mi interessano di più Specialmente la falce Che penso Sia una falce Almeno Fermo No eh Oh oh Dovresti calmarti La stamina Per favore Ritorna da me Sei vivo Questa non è una cosa bella Fidati di me È molto meglio Se sei morto Non vuoi essere vivo In questo mondo È un posto crudele Ho sentito storie Che ti farebbero Raccapponare la pelle Se tu ce l'avessi ancora Ancora vivo Vero? Maledizione Non capisco come attaccano Cioè È un enorme Ammasso di piume volanti Immagino che fosse questa La sensazione Che volevano creare In effetti Però per esempio Se io non voglio Attaccare quei due Posso farlo? Se voglio Concentrarmi su questo Che è già bello Incazzato Quest'arma Consuma troppa stamina Rispetto a quella Che ho io In questo momento Posso farlo Loro restano lì E per me Non è un problema Da lì Non ci devo andare Per il momento Perché abbiamo detto Che la nostra Il nostro obiettivo È scendere qui sotto Non avrei dovuto curarmi Aveva più senso Farlo adesso E non sapendo Quanto male fa Questa caduta È parecchio Ho fatto bene a curarmi Non sarei morto Sarei rimasto A malapena in vita Ma ne è valsa la pena Perché ho trovato un'arma Pugnali doppi Tra l'altro Pesano 2.5 Perché sono in due Ovviamente L'abilità è la schivata Scalano DD E richiedono soprattutto Destrezza Interessante Pugnali doppi Assomiglia al pugnale da bandito Però non lo è Il muset È quello che abbiamo visto Con lo spezzacorazza No Questo è un attacco largo E poi a due mani Tira fuori l'altro pugnale Dai che belli Ah e con La schivata Sarebbe questa qui Con L'attacco potente Insomma L'abilità dell'arma È appunto Questa schivata Che immagino Serva per arrivare Dietro i nemici E fargli backstab Questo è il colpo caricato Sono interessanti Sarebbe bello Fare una bella build Incentrata sui pugnali Per ora posso farne a meno Tu sei Ostile E hai una mannaia Che stai affilando Io ti ho fatto malissimo Mori Non sei stato un grande combattimento Bel cappello però Questo cos'è Il solito NPC Con la mannaia Già Tipico Almeno non mi ha invaso Stavolta E non si chiama Con un nome con la M Mannaia Ascia Non ascia grande Pesa solo 7 unità E richiede 24 In forza Scala A Non è una cattiva Prospettiva Sai Pesa addirittura Meno dell'alabarde Dai Quest'arma è favolosa Quindi è proprio un'ascia Però è lunga Che bello Questo moveset Per la mannaia Però questo è rimasto Ah guarda Il secondo è velocissimo pure Abbiamo già visto Che il potere È affilarla E questo colpo È più o meno Quello che conosciamo già Interessante Attacca in roll Dall'alto E anche questo Mi piace Anche questa Io voglio potenziare tutto Ma come ne devo fare Con una quality build Posso usare tutte le armi Ma non posso potenziarle tutte Quello è il problema Abbiamo trovato il set del brigante Che dovrebbe essere Quello che conosciamo già benissimo Dei giochi precedenti Perché ho tipo questo petto enorme Oh mio dio È super esagerato Sembra che sono una panzona Non posso fare questa cosa Grazie Ma torno ai miei abiti Da lavoro Che mi fanno sembrare Una persona umana Se non ti dispiace Chissà se c'era un altro modo Per arrivare qui sotto Ascia da brigante Non me l'hanno fatta trovare Insieme al set E sarebbe Tipo quella che ho trovato Però più leggera E ovviamente senza Lo status Aggiunto Oscuro Ok Immagino che sia Lo stesso moveset anche Allora Forse da qualche parte Riusciremmo a tornare Da dove ci siamo fatti cadere Per ora Dobbiamo proseguire Cautamente Perché è un'area Che non conosciamo Da qui si torna su E questo forse È il nemico Che avevo visto Potrebbe esserlo Questo è morto No Sta solamente facendo Un pisolino E io Verrò a rompere Le scatole Sei ancora vivo Questo è un problema Gli ho ammazzato L'amico davanti E lui non fa nulla Da queste parti Non siete molto Amichevoli Neanche verso voi stessi Frammento di titanite Quindi siamo ancora in un'area Delle prime Ok Loro due Sono ancora lì E ci restano Quanti frammenti ho Di titanite Ne ho solo tre Se volessi potenziare Questo martello Dovrei averne Altri tre Quindi per ora È una prospettiva Che è ancora Piuttosto lontana Comunque È interessante Che ti spronino Ad avere almeno Un paio d'armi Perché a questo punto È sicuro Che una l'hai già potenziata Più tre Lui ha deciso di arrabbiarsi Il veleno non arriva Molto lontano Ma dai Ma un nemico con le ali Ma perché Vabbè meglio così Meglio così Preferisco A quei rompiscatole Che c'erano su demons Chissà se Il mago Li sta incitando A fare questa cosa Senti Fatemi un favore Cascate tutti Ok Un bel R2 E un R1 E muoiono Ah Questo è armato C'erano che gli altri Non abbiano nulla in mano Aiuto Con calma Ragazzi Per favore Guarda quanto corre Muori Per favore Lice l'altro Anche tu Becca questa E schiatta Non mi fate sti scherzetti Che c'ho ancora Il cuore fragile Dopo quello lì Che mi è saltato in testa Al che resta Lo stregone Lo sciamano Con il suo bellissimo bastoncino Lì c'è un altro Che ha gli occhi rossi O l'ho visto male No Sembrerebbe proprio così E da lì si arriva O facendosi cadere Qui sotto Che non mi sembra L'opzione migliore In questo momento Oppure forse Facendo il giro da lì Mentre da lui Ci dovrà essere Un modo per arrivare A attaccarlo fisicamente Vero? Mi auguro di sì Ma si fa il giro Però Ah ok no E lui Pensavo fosse Qualche altro NPC O nemico Che gli stava Facendo la guardia E' finito di sotto Poverino Brace Un'altra cosa Che vorrei sapere E' se le braci Oltre a ridarti La forma Umana Diciamo così Ti curano anche Completamente Come se fossero L'umanità Di Dark Souls 1 Potrebbe essere Una forma di emergenza Di cura Anche se di solito Non è una grande idea Curarti in quella maniera Quando hai finito L'Estus Perché voglio finire Che muori comunque E perdi Appunto La forma umana A quanto pare Se voglio andare lì sotto Devo farmi cadere Però qui c'è un falò Quindi Posso approfittarne Questi non sono Nemici Ok Andremo da loro Tra un momento Perché qui dietro C'è questo fantastico Nulla Salve amici Prima accendo questo Poi parlo con voi Forse Se mi state simpatici Anzi prima Visto che sono troppo curioso Per lasciare andare Questa questione Torno un secondo Qui dietro Riammazzo lo stregone E mi butto Dove c'era Quell'altro nemico Vediamo se loro Non li toccano Oppure semplicemente Ci vado tra un po' E uccido lui Prima che cominci A urlare Come un forsennato Loro sono tutti quanti Calmissimi Tranne uno Perché mi sono avvicinato Troppo Ma mi sta bene Una alla volta È assolutamente onesto E salta Uno E due Troppa milarma Io non voglio Alzare la fortuna Ma mi troverò Costretto a farlo Poi se esiste Un modo di Ripristinare le statistiche Originarie Come in Dark Souls 2 Allora Sì Toglierei la fortuna E ci metterei Quello che voglio davvero Però Finché posso Evitarlo Lo faccio In fondo Non fa altro Che aumentarmi La La Quantità di anime Richieste Per avanzare ancora Sono punti sprecati Quelli in fortuna Non è assolutamente Utile in battaglia Come statistica È solamente Per soddisfare I miei capricci Di volere provare Tutte le armi Perché erano assaltato Bah Che morte idiota Come al solito In realtà Era una morte volontaria Perché così Posso battere di nuovo Questi nemici E sperare Nel loro drop Semplice no? È tutto volontario Voi non mi credete Però è così Niente da lui Finora nessuno Di questi Ha dropato Neanche un consumabile Quindi Io sto dando Per scontato Che abbiano Dei drop Però potrebbe Anche non essere così Ok Niente ancora Pietra confessionale Quindi Va bene Avrei preferito Che ne so Un frammento grande Di titanite La butto lì Ma non credo Che ne vedremo ancora Per un po' È un po' troppo presto Per cominciare Con quei materiali Stavolta salta Grazie Ah vedi Hanno messo una pietra Per farti deviare Nel salto Ma che cosa cattiva E tu sei l'ultimo Così come questa Sarà l'ultima volta Che io cercherò Di fare questo salto Perché sono Un testardo E pur sapendo Che lì c'è la pietra Messa apposta Secondo me Se cambio angolo Lo posso fare lo stesso Devo solamente Non andare a sbattere Voilà Tutto questo Per qualcosa Che mi farà Del male Se mi colpisce Altrimenti no Nessun dolore Per me Per voi Magari ne riparliamo Ecco qua Anello Di Morne Diamo un'occhiata Tra un momento Ricordiamoci Che qui c'è Un altro tizio E questa caverna È chiusa Perfetto Tomo divino Di Karim In Braille Persino In questo posto È arrivato il Braille Fantastico Intanto L'anello È nuovo Quindi vediamolo Potenzia i miracoli Non è una cosa Che ci interessa Mentre il Tomo Sarà nell'inventario Non qui Eccolo qua È un oggetto chiave Apprendi I grandi miracoli Di Karim Ma in Braille Forse dovrò consegnarlo Alla Rea Della situazione Non lo so Intanto da qui Si può proseguire Sembrerebbe di sì Per ora Lasciamo perdere Perché di qua Mi sembra di avere visto Che la strada è bloccata Perché c'era un nemico Che non sapeva come andare avanti Quindi Cominciamo da qua Salve Ah ecco Tu sei quello Che ha gli occhi Rossi Perché però Non lo scopriremo mai E in effetti La strada non era bloccata Però mi riporta qui su Mentre Proseguendo verso il basso Andremo verso nuove Ed inesplorate Avventure Come piace a noi Salve Scherzavo Nessuna nuova Inesplorata avventura O meglio Sì È nuovo È inesplorato Ma non c'è niente di avventuroso Quindi a parte Il salto Non c'è modo Per arrivare qui L'abbiamo fatto Per un anello È un libro In braille Cos'è utile Insomma A questo punto Restano i due signori Da queste parti E noi siamo prossimi Più o meno Alla soglia Di anime richiesta Per comprare la chiave All'interno del Del santuario Diamo un'occhia Ok Diamo anche Oscar Mentre tu Sei una persona nuova Wow Non ci credo Cominciamo da te Togliamoci De cose antipatiche Da davanti Anri Di Astora Certo Stesso luogo Però hanno cambiato il nome Lo scudo è lo stesso Certo che sì Il bosco dei crocifissi Ok mi sta dicendo Ah vedi La legione dei non morti Da quella parte Poi c'è la cattedrale Ci sta dando indicazioni Alla dimora Di Aldrich Sarebbe quello Che è la reincarnazione Di Nito Praticamente Capisco capisco Tu parli? Sentinelle blu Ah Questi sarebbero Quelli che aiutano Quelli che stavano Nel patto delle fichette Che abbiamo incontrato Qualche tempo fa Capisco capisco No vabbè Lo capisco benissimo Appena l'ho visto Accanto a te E tu sono compagno di viaggio Ho capito che tu eri Shiva E lui era il compagno ninja Che è ingrassato Tutto qui E' anche cambiato un po' I suoi gusti In materia di armatura Adesso si è dato Al feticismo Quindi lasciamoli perdere Possiamo fare a meno Della loro presenza Delle nostre vite Entrambi i covenant Che abbiamo trovato In questo momento Sono irrilevanti Anzi Avrei preferito Che non esistessero Entrambi Da qui invece Ah giusto Questo era il bosco Dei crocifissi Ha detto Quindi non è strano Vedere gente Che porta in giro Pali di frassino Ed è pronta Ad impalarmi Per l'appunto Ma anche io Non scherzo In quanto ammazza Se non ti dispiace Poi vogliamo fare la gara Vediamo chi vince Di solito vinco io Queste gare Non per vantarmi Però C'è mazza e mazza Allora Chissà se possono droppare Tipo il palo di legno Ma è che bellina quest'area È proprio un bosco Non mi voglio perdere Qui dentro Anche se penso sia Molto probabile Finchè non mi ori Aspetta Sono quello che penso Che siano Sì sono esattamente Quello che penso Che siano Sono gli insetti Di Dark Souls 2 Che avvelenano Ho capito Li hanno riportati qua Beh almeno Hanno Cioè Hanno scelto un buon habitat Per riprodursi Lui corre Col palo E anche io Vieni forza Non penso si possa far Perdi a sti cosi Ma tra l'altro Io scelgo sempre Il tempismo meno adatto Per farlo Basta eh Aiuto L'ho preso Tiè Quindi da qui Si prosegue ancora Anche da questo lato Beh per fortuna Qui vicino c'è un falò Allora vediamo Questi Crepano Subito Ottimo E per qualche motivo Scompaiono Non mi dispiace così tanto Come cosa Frammento Di titanite Non dovrei farlo In questo momento Però Ne ho quattro Pensavo di più Vabbè dai Altri due E potremo avere Una mazza potenziata Come si deve Ma per il momento Ma insomma Quest'area è grande E noi siamo Al termine Del nostro tempo Per oggi Quindi Non vedo Perché dovrei Continuare In questo momento Mi conviene Molto di più Ritornarmi Nel falò Oppure tipo Ammazzare gente Per essere più pronto La prossima volta E poi Esplorarmi Come si deve A questo posto Qui mi conviene L'alabarda va Anche tu Non scherzi In quanto Lunghezze Per favore Oh aiuto Mi sono incastrato Nell'angolo Sapevo che sarebbe Successo Sono indietreggiato Troppo Capita Quando ho detto Che dovevo Ritornare al falò Non era questo Che intendevo E quindi Io mi riprendo Le mie anime E ci torno Come pensavo io A piedi Va bene E uno E due Giusto per sapere No Ancora non ho testato Quanto danno Fa questa cosa Ma Il colpo normale Non ha senso Solo uno È molto più debole Rispetto al mio Normalissimo Attacco R1 Quindi Non ne vedo il motivo È più largo Quindi è più facile Colpire più nemici Ma allo stesso tempo Il danno Non è ottimo Quella dovrebbe essere La mia roba No È questa qui Quello che ho visto In lontananza Da solo un oggetto Grazie Queste mi servono Perché ripeto Stiamo cercando Di ottenere una chiave Da queste parti Quindi Mi piacerebbe Conservare queste anime Visto che ci siamo Quasi arrivati Pop E adesso Senza rischiare Di perdere di nuovo tutto Guarda quanti sono Eh qui dentro Qualcuno si è arrabbiato Non è un problema mio Stavo pensando Di prendere l'oggetto E scapparmene Però meglio Se lo lascio Così la prossima volta Ho più punti D'orientamento E posso sapere Dove sono stato E dove non sono stato Voi mi seguite Io non ho intenzione Di combattere con voi Almeno non lì sotto T'ho fregato E va bene Allora Visto che Ci stiamo fermando qui Giusto per Avanzare con più Tranquillità Prima del prossimo episodio Io mi fermo A questo falò E continuo ad ammazzare I nemici che stavano Qui sopra Sperando nei loro drop E magari raggiungiamo Anche le 20.000 anime Che ci servono Per comprare la chiave Così mi tolgo Anche questo pensiero Per oggi invece Io vi saluto qui Ciao a tutti ragazzi Grazie